Salve a tutti! Io sono Loof Dog e questo è Resident Evil 4, in BR come potete notare. Vi sta salutando anche il nostro amico mercante, che fra l'altro, me ne sono accorto mentre stavo editando lo scorso episodio, è Gianluca Iacono! Quindi... bella vecchio! No vabbè, comunque, bravi alla direzione del doppiaggio che ci sta sempre Gianluca Iacono, ci sta sempre. Ah, ma salve, vecchia signora! Buongiorno! Eh, dai, me la si vuol fare così! A me! A me! A Leon... no, senza pistola! A Leon S. Kennedy! A Leon S. Kennedy! Non credo proprio! Ah, ma qui la situazione è ben più interessante! Eh, 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 come ce la gestiamo? Io avrei questo, solo che è stra difficile, cioè non si vuole... Ah, adesso sì, invece! Ah, non è che si veda proprio uno splendore qui dentro, vi dirò! C'è quello laggiù, e quello sul ponte... Non è che riusciamo a fregare quello sul ponte, almeno? Dov'è? Fermati... Eh, vami dietro al... Ok... È strasfocato, ragazzi, oh! Eh, fanculo! Giustamente, non è che... Non è che non si allerti! Ma fai cosa fanno? Salgono qui? No, perché sennò io potrei stare qui tutto il tempo! Sì, sei anche fermata da musiche! Eh, beh dai, buono sapersi! Ehm... Eh già, gli altri... Eh beh, uno è laggiù! Io ci provo se non mi cade l'arma! Allora... Dai, Leon! Che ci puoi riuscire, lo so! Ah, ok, la vecchia signora... Ah, non ha caricato! Ok, l'ho presa! È morta? Sì! Bella, dai! Allora, vediamo quest'altro qua! È strano che devi andare tu verso il mirino! Se no, non te lo puoi portare alla faccia! Guardate, se ci provo... Ok, si rincoglionisce un po', ma... Eh, vedo un cavolo! È str... Cioè, magari sono io che... Ecco, fatemi provare così! Vecchio, mira! Ok, sì, va un po' meglio! Era il visore mio che era un po' troppo in basso! Credo di averlo preso, Ma non di aver fatto abbastanza danno! Nel dubbio, comunque... Ah! A mano, proprio! Vabbè, scialla, dai! No, vabbè, non siamo così esagerati! Scendiamo! E vediamo cosa ci aspetta! Sì, stai aì! Ma non sono preoccupato, amico mio! Ok, ok! Il signorino con la coppola! Ci sentiamo un po' siciliani, eh! Via dalle palle! Non usa mezzi termini! Il nostro Leon! Sì, però questa è cattiveria, eh! Mentre sto facendo un'esecuzione, Mi viene... A tirare la scelta! No! Ma bastardi! Ma lo fanno apposta! Allora to... Ce n'è uno dietro? Sì! Sono un po' infidi, eh! Devo dire! Qua mi sa che mi devo curare Prima che sia... Eeeh! Ci eravamo quasi! Eravamo quasi morti! Allora... E no! Crea verde-rossa! Vai! E me la usi anche, tesoro! Bravo! Ma che vuoi spingi? Ma spingi questo! Ciao, cadi! Erano tanti, eh! In questo avamposto! Erano! Ah ah! Morto! Ma poi da dove... Alcuni da dove escono, veramente? Ok, col tebbino! No? Eh già! Abbiamo leggermente allertato il mondo venendo qui, ma... Dai che gli esplode la roba in mano! Dai! Muori, 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 muori! Bella! Cioè non è morto, ma almeno... No, non volevo il caricatore! Volevo questo! Funziona anche con L2! No! Sì! Ok, forse potrebbe essere più comodo! Perché mentre uno sta sparando, poi così, zacchete! Uccisione istantanea! E chi si è visto, si è visto! Bella! Abbiamo raccolto un bel po' di cosucce, magari poi... Qualcosa lo rivenderemo dal nostro amicone! Ok, dai, non hanno... Dove sei? Ok, lì vedo qualcuno! Posso scavalcare... Ah! Bellissimo questo! Ma scusa, lui non sa che sono qui, vero? Lo vedo abbastanza spiazzato, infatti! Ok! Sì, c'è qualcuno sopra, ecco qual è il problema! Dove sei? Emblema esagonale! Io intanto lo prendo, senza saper né leggere né scrivere! Vai, è questo che tira le cose! Guarda che dama degli Ducati! Eccolo lì! È un po' lontanuccio, però! Lei no, invece! Lei per niente! Me lo dirai? Grazie! Ma... Cioè, manco i conigli o... Fanno così tanta progeni! Poi c'hanno la bontà di saperti arrivare dietro che non te lo aspetti mai! Ok, è morto! No! Non si fa la carica, tesoro! La carica si fa quella dei 101 quando vai a guardarti il filmino coi figli... Ma non a me! Qualcun altro c'è... Perché ho perso la pistola? Eh no! Eh no, però! Leon, un po' più di velocità, per piacere! Ahia! Ok, non me l'aspettavo! Mi ha levato un bel po' di vita sta cagata! Ma devo far qualcosa per fermare il flusso? Non è normale sta cosa qua, eh? Eh, allora... Ma sì, veramente, non è normale qua Forse devo tipo attivare qualcosa Cioè, non ho mai visto così tanti nemici In un Resident Evil, vi dirò la verità Vabbè che io... Sono abituato Cioè, io ho giocato al 7, al 3 Al 1 e al 2 Cioè, tutti i remake 1, 2, 3 E il 7 Quindi non è che... Possero... Insomma, un grande... Ah, si è ripreso No, io qua muoio Ah, era giù, meno male Posso cortesemente avere due secondi per fare questo? Spray medico, dai Esatto Stai dicendo? Quindi, in realtà, credo che... Resident Evil 4 si ha ben più action di questi altri che ho nominato Ah Merda Merda Beccati sta coltellata in faccia, allora, che ti devo dire? Oh Cioè, si trasformano anche, mannaggia Ancora la vecchietta Quanti ne siete, ragazzi? Quanti siete? Toh Ciuccia Eh, a un certo punto Adesso ci arriva anche la vecchina addosso Ho finito tutte le munizioni Ecco, panculo Mi dai col... Ah, ma perché non vuole? Ah, se era tipo resettato... Il modello Ho perso il coltello Non capisco Non c'è Ah, si è spezzato Vacca boia Ma io adesso l'ho riparato Cavolo Eh... Quelli da cucina dove sono? Non ne ho raccolti, scusate Eh, questo è un problema Questo è un problema, sì Eh, vabbè Uh Ti conviene essere l'ultima Tesoruccio Ti conviene essere l'ultima Il prossimo? No, no Il prossimo basta Il prossimo va E si fa uccidere da Chris Redfield Non da me Oh, finalmente Tutto questo per arrivare qui? C'è una shortcut per tornare indietro poi alla fine O no? Eh, mi pare proprio di sì Ok, scendiamo qua Ancora gente Ma stiamo scherzando, signori Ah, stava salendo la coglione Ma Ah, bellissima questa Ciao, ciao Sì, ma c'è ancora qualcuno che mi tira roba, cioè Uh Bella questa qui Molto bella Bellissimo anche questo Giustamente Ah, ma non posso distruggerlo Eh, vabbè Spreco un proiettile però Eh, qua su Boh Là sopra, tipo L'ho vista venire da molto in alto No, a questo punto mi chiedo se mi convenga tornare indietro per Ripristinare il coltello, diciamo Però, boh Non mi aspettavo veramente tutti sti nemici Carino Allora Ecco, grazie Eh, vedete, coltello da cucina Posso equipaggiarlo? Oh Assegna la scelta Non posso? Forse è già messo? Eh, ok Bene Con tutta la buona volontà Se mi fate capire dove siete Ah, eccolo Vieni giù, vieni giù Ok, vabbè Andata giù in un altro senso Non è che mi posso lanciare No, eh Se è ripresa la vecchiaccia No, ok E qualcun'altra Vabbè, finché sono bloccati lì Non mi faccio problemi Allora, sì Immagino Bisogna andare lassù È l'unica opzione Però Vabbè, sì, dai Continuiamo Poi quando ci ricapita Il mercante Lo aggiustiamo Sto problema Tanto Sono sicuro Che lo incontreremo Molte volte Ah Ma non era qui La strada da Percorrere Che sia là sotto Ma non avrebbe molto senso Sarebbe tornare indietro O no? Sì, vabbè Che mira però, signori Oh, ma è fatta di ferro Ah Finito Niente più Basta Ok Cioè, si è anche trasformata Davvero è fatta di metallo Va bene Senti, sai cosa c'è di nuovo, signorina? Fa un culo anche al fucile a pompa Polvere da sparo per tre Forse Ci permetterà di Fare qualche pallottolina Che abbiamo perso Eh, ma qui sto tornando indietro Infatti Vabbè Mi trovo Fatemi Upgradare Cioè, fatemi ripristinare il coltello Fatemi anche stringere Ah, sì Perché dovevo infilare quello lì Ha senso Ok Punizioni carabine Bah Ti dirò la verità Secondo me sono state 12.000 Pesetta sbuttate Con la carabina Ma va bene Che posso fare per te? Eh, che puoi fare per me? Una bella riparazione Riparazione Sì, io invece sono incazzato Ehm Vendi Ah, non gliel'ho più venduta questa Ma non si sa mai, va là Posso venderti qualsiasi cosa Ti vendo questo Sì, per il momento Basta così Sì, sì Ciao, ciao Eccolo qui Ah, devo ruotarlo Ok Eeeh Ah, esatto Ok Allora sciarla Vai No? Ma scusate Cioè, se facciamo così No? Ah, ok Ecco La VR permette di fare qualcosina più Vabbè che non è che Forse tutto sta roba complicata Per carità Però Ah, che bel posticino accogliente Bello tutto in rovina Eh Oh, silenzio E non cominciare che non ho il coso Ah, equipaggialo Eh Sì, questa scelta rapida Qui, qui, qui Ok Ah, vecchietto di merda Eh, ormai Avete capito? Il bastardino L'ha messo proprio A mestiere Ah, ancora ci dimeniamo, eh Ma vuoi vedere che quando si dimenano Stanno per trasformarsi Weh Guarda, so farlo anche io Ok Ok, detto ciò Attenzione alle trappole Sì, ma dai L'ho tirato così piano L'ho lasciato andare praticamente Ah, là sotto si va al tesoro Ok, pensavo fosse solo una via più Stealth, più tranquilla Invece no Ok, nessun problema Ci troveremo un bello zaffiro Per avere Ah, risorse Per avere accesso a così tante pietre preziose E oggetti di valore Non so perché vivessero così, veramente Sono i corvi che fanno sto brutto suono Questa roba Troppo tranquillo, eh Ah, qui è dove hanno fatto il rituale nel filmato all'inizio del gioco Ok Interessante Non è interagibile però in alcuna maniera Va bene Qui dentro invece Ci sono un bel po' di cosucce per noi Pianta verde E una nota Nota sulle bambole Gli aristocratici non contano più come una volta Non perdonare le loro azioni Distruggi i castellani meccanici Sono quelle bambole che trovi in giro Ah, ho capito Sì, come quella che abbiamo fatto esplodere nello scorso episodio Eccolo, lui Il castellano Ok No 2 di 16 In questo capitolo o in generale? Sì no, perché stavo pensando Forse In generale Però mi pare che l'altra l'abbiamo fatta scoppiare Sì, in questo capitolo qui Comunque Ma basta con la granata La useremo a tempo debito Ma stai tranquillo Oh No, grazie No, grazie Cazzo, non gliene frega proprio? Ma poi possiamo ucciderlo stavolta? O è come nel prologo? E no, estrarre munizioni non è il momento, sa? Si è tagliato da solo Oh, oh, oh Guarda sta stronza di merda Guarda sta stronza di merda Ma come ti permetti? Oh Questa è stata Una bella Una bella giocata da parte sua Eh, devo dire Perché ero così Focalizzato sul Sul tizio con la motosega Smeraldo Hai capito? E lo aveva qui, eh Non so se avete visto Lo aveva qui Non lo annuserei Ecco, mettiamola così Ah, già saltata Molto bene Preferisco Ah, la ciotolina per il cane No Mi è appena venuto in mente Speriamo non ci siano nemici cani Perché Tipo quelli di Resident Evil 1 Che fastidio Cioè, erano proprio infami Infami forte Quindi Sì, avrei Non dico paura Ma qualche remore Ad affrontarli Sicuramente Ok Sì, immagino dovremmo entrare qui Però Per sì Ma dai Per sicurezza Ci facciamo un giro all'esterno Magari troviamo qualcosa di bello Tipo delle trappole Oh Leon Ci siamo capiti Ah, la porta è sul retro Ok Abbiamo fatto il giro Ci sta, ci sta È permesso Ah, sotto Lui non me l'aspettavo Vi dirò Poverino Stava cagando Ah, scusa bro Mi dispiace Ma mi capisci, vero? No Bella casa Beh, sì Sarà l'invidia di tutto Sì, no, certo Rispetto a quelle catapecchie Davvero Forse questi stavano messi Un attimo meglio Piccola chiave Ok Ho capito Guardate Addirittura il camino La radio Vecchie foto Di chi? Ma Roba è a caso Non è che si capisca molto Poi se provo ad avvicinarmi Mi spazza via Quindi Chissà Vabbè Questo è il villaggio Invece Munizioni Molto ben gradite Qui? Nulla? Posso Telefonare? Un aiuto da casa? Granata Frammentazione C'era rimasto solo lui Praticamente Ah Eh, e io che ne so Forse di sopra ci sarà la risposta Sì, perché veramente così Non saprei Sono andato di qua? No Ah, la zona cucina Beh dai Per com'è grande la casa Oh, di gallina marrone Per com'è grande la casa Potevano farla un po' più ampia La cucina, dai Ok, via libera Pianta rossa Uh, macchina da scrivere Volentieri Guarda, anzi Farei anche questo Ho capito Mentre editavo lo scorso episodio Perché non funzionava La miscela Perché devo prima Che coglione l'ho usata Vabbè Devo prima Cioè io adesso non lo so Sono come il meme dell'allenatore Lì Cazzo Chiedimi la conferma Perché vedete cosa fa Sta bastardo Guardate E me la usate tutte e due Vabbè Crea Devo fare prima verde e rossa E dopo Crea Verde, gialla e rossa Ecco perché non potevo crearla Dall'inizio Devo fare lo step intermedio Prima Va bene Vabbè sì Sta roba ce la teniamo Ancora Che non si sa mai E salviamo Se avessi salvato prima Di fare sta cagata Avrei ancora le altre due erbe Ma Dettagli Ok Cosa abbiamo qui? Il Luminados 4-3 In venerazione del padrone Suono una chiave che Non ho la piccola chiave Non credo No infatti Sia per la situazione Però Ci hanno appena dato la soluzione Per la porta di sotto Che ovviamente era Qui? Ok Che non era una porta Ma era un armadio Allora Bambino Ruota Ok Maiale Se questo è un maiale Sembra più una bacca Ah infatti E grano Buono Sfera di cristallo Oh Va bene Non so cosa Ah forse la posso inserire In quel buco sopra Però non mi sembrava proprio No 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 Ma guarda poi Come si lanciano Manco fossi Una Bella Porchetta Appetitosa Oh Ah Non è carico Che bello Fanculo però Adesso Voi avete il video A vostra disposizione Lo avevo caricato O sbaglio Avevo fatto così Via apposta Poi l'ho rimesso via No invece Rubino Grazie No ma non è per la sfera Questo Oh sì Carina però Queste bollicine dentro Ah invece sì Ah Servono per fare Sto puzzle Strano Ok Eeeh Ah ecco Mi sembrava un po' Contorta la cosa Allora Così Eh più o meno Ma più o meno Non basta Per i developer Di Resident Evil Esigono la perfezione E forse E forse dall'altro lato Potrebbe essere Eh Insomma Quasi Dai Mannaggia Va bene così Ah però è dall'altra Quello Quello sgorbio strano Eccolo Dai È giusto questo Dai Oh Che abbiamo di bello qui Giuro se c'era qualcuno qua dentro mi incazzavo perché voleva dire che l'avevano chiuso a chiave Ah ok Prima di prendere quello faccio un po' un giretto Tu Tu bastardinho Tu Non me la racconti giusta Chiave con stem Ah Ah Eh questa ci serve Sì Cacchio Dovevo leggere prima di prendere la chiave Oh Eh Mister X Mister padre X Padre X Ecco Cacchio Adesso mi perde il libretto Ah vabbè Un bel volo Che non lo facciamo Adà Che piacere vederti Cazzo era spider woman O sei qui padre eh Dono nel mio sangue Sì ti ricordi quella siringa che ti hanno fatto o O hai preferito Capitolo terminato Eh Non lo so Vabbè dai macchina da scrivere Però Faccio un terzo save Voglio vedere Cioè dai comunque comincerò da dove ho finito Potrò Guardare cosa c'è nel libro lì Capitolo successivo Vediamo vediamo Sì Bene Ok Ah Non depone bene Esatto Grazie ciccia Ma certo Mi dirigo verso la chiesa Condor 1 Chiudo Va bene Munizioni Un quadro che si stacca per rivelare Sì capitolo 3 Ok Leggi documento Cacchio Non l'ho fatto in tempo E vabbè Sarà qui comunque no Documenti E Radio Hannigan No Vero No esatto Vabbè Sono solo tre iscrizioni Queste rozomoli Tonata sulle bambole Rapporto Eh esatto Sarà questo Il nome di Luis Serra Appare per la prima volta Nel registro degli studenti Di un'università È impossibile trovare Testimonianze antecedenti Incluso il certificato di nascita Dopo essersi laureato All'università È stato assunto Dal dipartimento di ricerca Della Umbrella Dove ha brillato Guadagnandosi l'apprezzamento Di tutti i suoi colleghi Ha preso parte Allo sviluppo Di diversi medicinali Da banco La cui produzione È cessata Prima ancora Che fossero Emessi sul mercato Bene Alcuni anni dopo Serra ha dato le dimissioni Dall'Umbrella Ed è sparita Dalla circolazione Dopo l'incidente Di Raccoon City Le forze dell'ordine E il governo Hanno tentato Di rintracciare Chiunque avesse Dei legami Con l'Umbrella Ma nonostante Bastardo Ma nonostante Le ricerche intensive Non sono state in grado Di localizzarlo Il fatto che ritrovarlo Sia stato impossibile Ci fa pensare Che Serra Si è ricorso davvero A qualsiasi mezzo Pur di far perdere Le sue tracce Scritto a mano Da Hannigan Medicinali da banco? Dubito fortemente Che l'Umbrella Sprecherebbe Uno dei suoi talenti migliori Per la produzione Per la produzione Di antiacidi O creme di bellezza Beh Anche quelle vendono O no Dovrei Farmi I fatti miei? Sì Però Tiriamo la leva Uh Ok Interessante Fammi prima Leggere Questo Cronache del villaggio Volume 3 Data 10 ottobre Il clima ultimamente è strano Il grano appassisce Le mucche dimagriscono La gente dimostra i segni della fame È vero Ci mancano le risorse Per lavorare nei campi Ma bisogna obbedire Incondizionatamente Agli ordini di Lord Sadler Trenta persone Sono morte di fame Cinque mucche Verranno macellate I patriarchi Si riuniscono Per sorteggiare Altri sei prescelti Per Lord Sadler Altri otto oggi Altri quattro Altri undici Due stranieri Che si erano persi Vagavano nel villaggio Li abbiamo mangiati Li abbiamo portati All'attare per il rituale Oggi non c'è bisogno Di sorteggiare nessuno Ah Quindi chiede anche Dei sacrifici Ah ma due persone Che cacchio Ah vabbè Dovremmo Tenerlo a mente Ah questo Sì 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 Ok Verso La chiesa Credo a questo punto Fatemi controllare Però molto velocemente Ok Che poi Che poi La chiesa ovviamente Ah sarà là Certo Chi è? Ho sentito qualcosa Non è una mia impressione Vero? Un cane Non ditemi che sono I nemici cani Eh Perché Comincio con questo Ah Un lupetto Con la zampina Incastrata Tranquillo Bello Non mi mangiare la mano Però Adesso che ti libero Non sono stato io A mettere la trappola Ci tengo a ribadirlo Ecco Dai Uff Dai Non Non dico che sia Stato particolarmente Riconoscente Però quantomeno Non ci ha sbranati Il che è già Una buona cosa Eccola qui Sniacchete Ah Nella caverna Buia E Umida Che bello Solo per 200 pesetas Era davvero Tutto qui? Siamo sicuri? Boh Pare di sì Qualche patata Ma Poco possiamo farci Allora T'ho visto Sa? E guardalo Che furbet Che va a chiamare Gli amici Questi hanno Una cuccia Per il cane Eh Beh anche se Quello lì mi ha visto Io comunque vado Piano piano Perché magari Ah ma questo è Di nuovo il villaggio E certo La chiesa Dove sono entrati tutti Ma quindi scusate Esatto Qui non potevo entrare Perché bisognava avere Un compagno Però Porta con stem Esatto Però forse questo Tesoro qui Posso andarlo a prendere Ok Va bene dai Proviamoci Sarebbe Di nuovo Quella casa lì Ok Tranquilli Non voglio fare nulla Di strano Voglio solo Depredare Le vostre abitazioni Mi sembra Un Ah Ecco perché E serviva la chiave piccola Dicevo Mi sembra Una cosa ragionevole Bussola d'epoca Oggetto Per il mercante Forse Non credo Avrà Tanto Sì Uno scopo Ben preciso Per noi Tesori Esatto Una bussola Ad altri tempi Mantenuta in buone condizioni Per tutti questi anni Può essere Solo vendute Porca vacca Che figata Però ragazzi Ah ecco il visore Che No Cazzo lo sapevo Vieni 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 Fido Fido vieni Cazzo Vieni vieni Fido 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 No Dai non dire che non è carico Uh cazzo Veramente non è carico Ok Guarda ci sei solo tu O bere o affogare Ciccio Vieni vieni Non ho Ma perché non carica Mannaggia Mi sta facendo incazzare Sto pompa Cioè È una meccanica del gioco Che si inceppa O è solo stronzo Ah beh Comunque l'abbiamo spuntata Sono Questi non sono nulla Vabbè che ho usato il pompa Invece della pistoletta schifosa Però vi dico Sì questi non sono nulla In confronto A quelli del primo Che fastidio Cioè Non so se Riuscite a sentire Tutti sti lamenti Ah ecco chi è Però sembra quasi normale Guardatela Guardatela Sì sì ti sento Mina Tranquilla Ok Piano piano Disattiva Non credo ci Sì non credo ci sia Un senso particolare Nell'andare quassù Se non che magari adesso No Era giusto per Va bene Ah in caso non avessi ancora preso il pompa Va bene Ci sta A questo punto però mi hanno bloccato la via per la chiesa E devo andare attraverso questa casa qui Giusto Giustissimo Però qualcuno non è d'accordo Vieni fuori Lo so che ci sei Eccoti qua Ero già pronto A rincarare la dose Ma poi che fretta hanno Che mi corrono addosso Signori Ce n'è abbastanza di me per tutti Non abbiate fretta Dovete assaporarlo Leon Ok Cerchiamo di fare alla Graziosa signora Quello che lei vuole fare a noi Col bel coltelluccio Dispiegato Ecco qua Uh Interessante Interessante ma Converrà Beh sì perché Tanto comunque l'obiettivo è lì Quindi A meno che No io non ci sono stato qui esatto Comunque qui è sicuro che io ho la torcia in faccia no? Ah sì è vero allora Si può togliere Dalla testa Cioè per carità appunto È molto più comodo Come era prima eh Perché così Per carità puoi fare appunto La figata Tattica Della posa tattica però Meglio in testa sinceramente Sì Così hai le mani libere I topolini scappano Ma non so se forse Quasi quasi dovrei Ah e questa è l'uscita Dall'altro lato Vero? Esatto Ok Vabbè dai Un po' di Di risorse Ci sta Ah solo che adesso Vabbè Rivado dalla casa Che è più Semplice Eh Purtroppo comunque non dura tanto il coltello Veramente A sto punto Andiamo avanti con quelli da cucina La prossima Perché 4000 ogni volta È un botto Eh Non è poco Cioè senza offesa Però che chiesa di merda Cioè Potevate farla un po' meglio ragazzi Cioè nel senso Sembra semplicemente una casa Arredata così male Dai che cavolo Nulla da raccogliere No È sempre lui eh Sarà quel Lord Sadler Di cui parlavano Poc'anzi Perché È un po' troppo Urca Non voglio sapere Da cosa viene questo Oddio Cioè Enorme Guardate la mia mano No No vabbè Sì vabbè Sto uscendo dall'area di gioco No vabbè Cioè So già come andrà a finire Dovrò affrontarlo Sta cosa Mamma mia Ok L'ansia sale un po' Illuminatus 49 Dormi bene e prospera Bambino caro Mentre il tuo corpo cresce E le tue madri Cuciranno nuovi indumenti Apposta per te Con sette quintali di grano E mezzo bovino al giorno Sei già più grosso Della tua culla E vorrei dire Prospera bambino caro Per il bene Di tuoi fratelli e sorelle Che non possono farlo È perché Se l'hai mangiato in lui Altro che il bovino Ma in tutto ciò no Io dovevo venire in questa chiesa Perché Cioè adesso non dire che non l'ho caricato Ah il mercante Bello Quando c'è lui Sappiamo che è una zona sicura Perché il paraculo Non si accampa mica Dove c'è il pericolo Sono qui per essere stuzzicato amico Fammi solo Aprire questi Grazie Stuzzicami pure Allora Alla faccia Mi stuzzica E come La TMP Esatto Mi stuzzica Sì Molto più Della carabina Vi dirò Praticamente Tutto il nostro budget Vabbè Il progetto Della granata stordente Invece se volessi potenziare qualcosa Ok potrei riparare lui Eh Avrei abbastanza soldi Per riparare il coltello E comprare la La TMP Scusa un attimo No 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 Adesso compro qualcosa No perché ho fatto questo Voglio solo capire Ma questo qui È Che cos'è Cioè io metto qua Cosa succede Equipaggiamento extra Non capisco Viene venduto Spero di no Cosa succede Cioè io adesso chiudo Vuoi inviare gli oggetti Che non sono nella valigetta Al deposito Ah Il deposito Eh Ma scusami Qui è la macchina da scrivere No Ah Chi lo sapeva E chi la sapeva Questa Ok Personalizza valigetta Argento Ah possiamo sbloccare altri colori Figata Va bene Allora Allora sì Intanto direi Non scarta Poggiami Posso? Non posso trasferire? Vabbè Facciamo così Dall'inventario Che è meglio Trasferiamo Quattro Delle nostre Bombe Che tanto non le sto neanche usando Ecco L'uovo Perché no L'erba verde Ovviamente Ci può servire Mettiamo tutta la roba Per curarci qui E poi Sì rimangono questi Per creare qualche munizione E il coltello da cucina Ma glielo vendiamo adesso Solo che Userà le munizioni Della pistola Sì sì Perché è una mitraglietta Quindi Dovrebbe usare Le munizioni Della pistola Tecnicamente Giusto? Offerta speciale Fra l'altro Compatibile con il calcio Della TMP Eh lo ben credo Ma No non mi dice Le munizioni Quali sono Vabbè Con questo farei fuori Folle di nemici È quello che spero Nessun'altra offerta Speciale Caro mio Ah era su questo Non era sulla TMP Eh vabbè Non ne ho più Caro Posso solo fare questo Ecco qua Bella Potresti Ma Vedi Non Non è un'economia Fiorente Ecco Mettiamola così Ci ho detto Quindi se faccio così Adesso Ehi là tesoro Ma usa Usa Munizioni diverse Che io non ho Ecco Questo è un po' Un problemino Vabbè Salviamo Capitolo 3 Normale Ecco qua E io Vi do appuntamento Al prossimo episodio Quindi Vi ringrazio per avermi seguito Fino a questo punto Dall'Ouftog È tutto E noi Ci vediamo alla prossima Ciao 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 ciao